Le risorse pubbliche restano le stesse, ma i bisogni e le esigenze della popolazione aumentano. L'ambito è quello dei servizi sociali rivolti agli anziani, persone ultra 65 anni, anche se poi da qualche tempo si è attempati dopo i 75 anni di età, che a Brescia sono più del doppio dei giovani. Il 25% della popolazione in città ha più di 65 anni e di grandi anziani con più di 95 anni sono circa 700. Ancora sul totale in 16.000 vivono da soli. Così l'amministrazione comunale deve fare i conti con risorse di poco sufficienti a soddisfare i bisogni, ma destinate a non esserlo tra poco, se il trend si manterrà costante su questa linea. E dei quasi 50 milioni di euro che la loggia ogni anno mette a disposizione del sociale, oltre il 13% è impiegato proprio per far fronte ai bisogni di questa categoria di persone. Ma non basta, perché le necessità sono molteplici. L'occasione per porre attenzione alla questione è il via libera che l'Assemblea Comunale ha dato al piano di zona 2018-2020 dell'Ambito 1, che comprende i comuni di Brescia e Colle Beato. A farsi portavoce della situazione bresciana è l'assessore ai servizi sociali in loggia, Marco Fenaroli, che parla di una domanda in costante crescita e una risposta che può arrivare solo attraverso la sinergia dell'amministrazione con le realtà del terzo settore, dai medici di medicina generale ai farmacisti, psicologi, ATS e ASST. Non mancano certo le criticità in questo ambito a partire dalle risorse pubbliche che restano le stesse in uno scenario che cambia continuamente. A Brescia il tasso di vecchiaia è compensato dal numero degli stranieri residenti che è passato da mille presenze all'inizio degli anni 90 agli attuali 38.000, ai quali se ne devono aggiungere 7.000 che sono stati naturalizzati. Per dare risposte concrete è stato così steso un piano che pur basandosi sulle linee fondamentali di quello precedente ha come obiettivo coinvolgere ancora di più i consigli di quartiere e i 18 punti comunità. L'obiettivo è quello di riuscire a garantire assistenza e cura in tempi rapidi senza gravare sulla famiglia. Per fare questo, spiega Fenaroli, è necessario stabilire una corretta ed efficiente relazione tra servizi sociali, ATS e ASST. Dobbiamo aggiustare i vari protocolli di ingresso nelle strutture creandone di intermedie consapevoli anche delle relazioni dei servizi territoriali, oltre che dalla testimonianza dei familiari che il punto di crisi molto forte avviene alle dimissioni dagli ospedali.